Non sono qui per fare amicizia, sono qui per capire che sta succedendo in casa sua. Sta facendo ancora lavori. Ma quali lavori? Ordinaria manutenzione. In questo palazzo c'è il caos, perché c'è un amministratore debole. Signori, per favore, basta! Che cosa è questo chiasso qua fuori? Roberta, mi ero dimenticato che stavo giù in casa. Ho trovato questa scarpa. E di una delle sue amichette, che sicuramente torna stasera a riprendersela. Avete sentito? Potrebbe esserci un'intercapedine. E come c'è finita là dentro? Ma non ho trovato una stanza segreta, murata. È mio, mi appartiene, sta dalla parte mia. Non è vero, sta giusto in mezzo. È molto meglio se collaboriamo. Stiamo cercando di rintracciare la vecchia mappa catastale di casa nostra. Pare che siano stati occupati i locali di servizio di uso comune del contominio. Qua stiamo parlando di casa mia. Di casa mia? No, casa mia. Di casa mia. Ma che cosa? Noi abbiamo fatto le nostre ricerche ed è venuto fuori qualcosa di veramente, veramente interessante. Ma che è? Noi abbiamo fatto le nostre ricerche.